gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia ministro degli esteri luigi di maio dice non voglio più vedere le bare di bergamo bisogna lavorare sempre di più e fermare il virus o il virus secondo come lui lo vuole pronunciare per aiutare chi soffre e dare sostegno a chi ha bisogno bisogna rimboccarsi le maniche e intervenire concretamente con misure che salvano la vita delle persone e il lavoro dei nostri concittadini ha scritto su facebook il ministro degli esteri luigi di maio la situazione in italia è difficile ma negli altri stati lasciatemelo dire è grave io le bare di bergamo non le voglio più vedere io come molti di voi sono stanco di vedere morire le persone di vedere medici infermieri che fanno turni massacranti di 24 ore e l'intero arco parlamentare frammentato diviso in continua polemica dobbiamo sentire il peso delle responsabilità sulle nostre coscienze ma caro gigino di maio il grande è insomma lui è stanco di vedere morire le persone turni massacranti degli infermieri ma caro gigino di maio il grande tu alla fine sei anche se c'è rocco crimi detto vito dagli amici tu sei il capo politico del più grande partito italiano al momento perché i seggi in parlamento riflettono le elezioni del 2018 quindi non puoi parlare come se fossi all'opposizione tu devi parlare come come principale esponente del partito di maggioranza nella maggioranza quindi se parli di infermieri e medici turni massacranti avreste dovuto voi compreso tu assumere medici e infermieri avreste dovuto aumentare le terapie intensive in questi sei mesi avreste dovuto comprare carrozze dei treni eccetera eccetera cosa avete fatto in questi sei mesi ah sì avete cancellato i decreti sicurezza di matteo salvini e sono entrati terroristi sono andati in francia beh insomma e beh avete fatto un bel lavoretto è i miei veri vivi complimenti anzi complimentoni intanto l'appello dei medici dicono chiudere alcune regioni potrà aiutare chiudere alcune regioni sicuramente può aiutare ma la chiusura deve essere generalizzata dove la crescita dei casi è esponenziale questo è un dato di fatto l'ho affermato salvatore manca presidente nazionale della società italiana di medicina emergenza urgenza ospite di omnibus sulla 7 dice rispetto a marzo ora abbiamo aumentato degli accessi anche di pazienti no covid e stanno recando il pronto soccorso anche pazienti paucisintomatici o con sintomi lievi è carente l'organizzazione dei servizi assistenziali sul territorio le unità che dovrebbero seguire i pazienti a domicilio non ce la fanno e c'è anche un sovraccarico del 118 intanto mattarella lancia un nuovo messaggio la crisi è profonda il risparmio può concorrere a ripartenza e dice questa giornata si tiene durante una crisi profonda che richiede misure urgenti per salvaguardare il presente e il futuro della nostra società il risparmio tradizionale patrimonio del nostro paese la cui tutela è sancita dalla costituzione può concorrere alla ripartenza così lo dice in occasione della giornata mondiale del risparmio in un messaggio il presidente dell'associazione di fondazioni di casse e risparmio francesco profumo naturalmente parlano di risparmio e dove deve ripetere il risparmio vabbè a parte queste dichiarazioni bertolaso dice un qualcosa di interessante tra due settimane saremo come a fine marzo ricolleghiamoci a quello che diceva gicino di maio il grande l'uomo che sussurra al virus dice non voglio vedere più le bare di bergamo ma già con 200 morti al giorno oltre 200 morti non vedi le bare sui camion a bergamo ma ci sono ci sono distribuite in tutta italia quindi quella situazione c'è già c'è già caro di maio ma bertolaso dice la vedo molto dura la situazione complicata e piena di tranelli perché purtroppo a metà novembre saremo come a fine marzo con la differenza che allora l'epidemia riguardava lombardia e veneto mentre ora abbraccia tutta l'italia il virus si è sparpagliato ovunque anche le marche non sono messe bene così guido bertolasio ex capo della protezione civile e consulente del governatore fontana per l'emergenza covid in lombardia intervistato dal corrierone della sera e dice il mezzo lockdown non basta beh no credo che sarebbe meglio fermare tutto il paese per un mese subito siamo ancora in tempo per non arrivare a quei numeri con uno stop generale da un lato potremmo cercare di arrestare la diffusione dall'altro permetteremo al sistema di riorganizzarsi resettiamo l'italia senza aspettare di vedere se le nuove misure sono efficaci ma l'economia perché tutti si sono accorti che insomma chiudere non è il problema che gli italiani stiano in casa beh è anche quello il problema della crisi sociale il problema è il lavoro non tanto il chiudere un mese il problema che ha capito conte è proprio quello del lavoro dell'economia che potrebbe distruggersi ma intanto interviene anche il presidente della regione della regione veneto che sono oltre 3.000 nuovi nuovi positivi però il presidente luca zaia dice beh insomma lockdown nel weekend c'è sempre qualche sorpresa è probabile che venga scelta l'opzione coprifuoco su eventuali nuove misure di emergenza per il covid mi sembra di capire che qualche novità ci sarà nel weekend c'è sempre qualche sorpresa dice zaia sento qualche ragionamento ma più on the road ha precisato che qualcuno possa pensare a dei lockdown light leggeri più che altro dei coprifuoco come vengono adottati in belgio e francia probabile che scelgano questa opzione al momento comunque a noi non è arrivata nessuna misura su misure nazionali poi c'è l'appello degli infermieri che dicono siamo pochi e stanchi la situazione negli ospedali è drammatica sono stati fatti degli investimenti economici per incrementare il personale ma questi rinforzi sottostanno alle regole delle università quest'estate non ci sono state sessioni di laurea le prime utili sono in corso in questi giorni aggiunge oggi ci troviamo a lavorare con lo stesso numero di infermieri di marzo ma con tre problematiche in più la prima è che una parte del personale è già contagiato o in isolamento la seconda è che mentre a marzo la pandemia era circoscritta per lo più in una zona d'italia ora è nazionale e poi c'è l'ultima la più umana siamo arrivati già stanchi io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook in instagram e nell'altro canale di youtube che si chiama tele italia seconda rete grazie e buon proseguimento di giornata arrivederci